buona domenica a tutti da marcus buona domenica sera parleremo del 90 allora questo 90 dove eravamo rimasti eravamo rimasti che vi faccio vedere subito schema dopo schema estrazione dopo estrazione e vedremo quali 90 dovrebbe arrivare sulle ruote disegnate vi dico già che palermo è quella buona ma c'è anche bari ma andiamo passo dopo passo quindi step by step piano piano andiamo a vedere cosa è successo allora 13 di aprile 13 di aprile c'era il 90 di roma che andava a finire come nel riquadro qua che vi faccio vedere guardate milano napoli cosa è successo andiamo a vedere allora 1 2 3 4 5 quinto colpo arrivato al 9 quindi non è arrivato ancora il 90 su milano napoli ma è arrivato il vertibile e questa è ambatta contata avete visto quinto colpo arriva il 9 nella posizione dove è ambatta contata si ferma quindi non il 90 ma il 9 ma le frequenze rimangono sempre alte su milano e napoli quindi poi andremo a vederle con il dettaglio 6 7 8 colpi domani quindi domani sarà l'ottavo colpo la prossima settimana quindi da domani si saranno quattro estrazioni non tre perché quella del primo maggio è stata partecipata quindi da domani andiamo a vedere allora questo lo schema che rimane ancora valido quindi per milano napoli e queste sono le posizioni dell'ambatta contata e queste in giallo sono della ricerca dell'otto più più gold adesso andiamo a scanalizzare le altre uscite qua chiudiamo che non ci serve più e andiamo a vedere cosa succederà allora questo invece 22 aprile quindi l'estrazione dopo o qualche estrazione dopo venezia guardate il 90 arriva a palermo e genova quindi cosa succede succede che non è un arrivo su queste ruote ma di nuovo guardate si riaffaccia il 90 su firenze di nuova venezia ma se venezia da palermo genova cosa succederà 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 che se l'ultima volta che è successo che è arrivato al 90 su venezia si rinforza quindi la condizione di palermo e genova quindi abbiamo due condizioni che arrivano su palermo e genova quindi firenze arriva di nuovo al 90 a venezia ma venezia essendo già dato quindi bari rimane e allora andiamo poi vedere che cosa succederà ma diciamo che palermo genova e bari sono le tre ruote più indicate per il 90 milano napoli sta tardando questo 90 ma vedremo cosa succederà ma indicativamente quindi palermo genova e bari sono le tre ruote forti allora questa è l'ultima condizione con 90 guardate il 90 arriva a venezia ma come vi ripeto il 90 aveva già dato a venezia poi è risortito vi faccio vedere è risortito di nuovo a venezia in terza posizione ma allora di nuovo va a finire a palermo e quindi a genova quindi c'è questa condizione ultima col 90 che va a finire a palermo genova poi c'era l'altra condizione vecchia che porta il 90 sul palermo e genova quindi questa è una doppia condizione su palermo genova e su palermo abbiamo il 77 che dovrebbe arrivare speriamo bene quindi palermo genova sono le ruote per il 90 e poi andiamo a vedere cosa succede con l'altra estrazione eccola qua vedete bari ma bari va a finire a bari quindi si è andato già a venezia per ben due volte adesso si rimane bari quindi tre ruote bari genova palermo le ruote più forti con il 90 tutte qua quelle in giallo sono le posizioni dell'otto più più gold quelle del 90 normali sono l'ambata contata come sapete che per tantissime volte è arrivato proprio sulla quinta posizione proprio sulla quinta posizione arriva spesso anche il 90 quindi abbata contata o arriva al vertibile arriva al 90 avete visto nel caso di milano è uscito il 9 in quinta posizione non il 90 peccato comunque allora questo è venezia di nuovo come vi ripeto va a finire a palermo genova c'è la doppia due condizioni che non va a finire palermo genova e poi quella di bari di nuovo con quello di venezia scusate con quello di firenze va a finire a venezia e poi di nuovo a bari quindi queste tre ruote sono fortissime perché vedete essendo già dato bari genova palermo sono le ruote più forti poi volevo far vedere appunto proprio questa cosa qua allora il 90 di bari quindi guardate cosa cosa succede succede questa scalinatura qui quando arriva questa scalinatura come dice anche roberto è probabile che il 90 lo può piazzare bene su bari quindi attenzione quindi attenzione bari è prossimo su con 90 quindi 90 di bari è prossimo dovrebbe essere prossimo quindi abbiamo una speranza che questo 90 possa facciarsi su bari questa è la vecchia condizione col palermo su genova vedete che invece 90 e capite lì e lì non è che ci sia tanta tanta forza su genova con 90 e quindi vi ripeto le ruote forti diciamo che sono proprio proprio bari palermo e poi che non ha dato milano napoli però bari palermo volete metteteci a genova metteteci genova queste tre ruote sono fortissime riguardiamo il grafico lineare qua l'ho fatto io più dettagliato guardate 43 presenze palermo 26 ritardi di uscita quindi palermo è rafforzata sapete anche perché perché c'è questa condizione ancora che è attiva perché ha dato 90 il primo colpo su venezia ma palermo 10 80 somma 90 quindi c'è la somma 90 ci sono due ambate contate che vanno a finire a palermo ragazzi palermo è veramente fortissima se poi volete aggiungerci ancora 77 che stiamo attendendo su queste su queste ruote con la ventina potete anche unificare palermo attenzione 77 90 potrebbe essere anche un ambo ma noi seguiamo 77 22 27 che sono fortissimi con il 77 io vi do questa indicazione perché ci sono tre motivi ovvero le due ambate contate poi c'è ancora questa previsione aperta che potrebbe dare il 90 palermo dato che il 90 l'ha sganciato su venezia palermo una frequenza fortissima andiamo rivederlo guardate quindi 43 presenze sono tante livellato 26 ragazzi è veramente fortissimo poi genova vi ripeto è così così quindi per ridurre il tutto possiamo fare anche il il bari palermo ecco il bari palermo questa presentazione di bari è bellissima bari palermo sono ruote fortissime con 90 vedremo che cosa succederà poi le posizioni ve lo fate vedere andiamo a rivedere allora sono con gli schemi a vabbè questo è palermo quindi seconda quarta e quinta palermo è carta penna seconda quarta e quinta come è stato semplice poi guardate qua lo schema di bari 90 in seconda in terza e quinta poi come è stato semplice comunque bari e palermo vi ripeto sono fortissime vedremo che cosa succederà noi ci risentiamo sempre dalle prossime news da marcus ciao ciao a tutti passatevi una buona serata ciao a tutti passatevi